Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba. È un pezzo del brano di Vangelo proposto per oggi per la festa del battesimo del Signore, per la festa del battesimo di Gesù e Gesù si fa battezzare dal suo cugino Giovanni Battista e mentre esce dall'acqua del Giordano i cieli si aprono, si squarciano addirittura e lo Spirito Santo scende su di lui. Si può azzardare un paragone, il battesimo è quel sacramento che compie uno squarcio nella nostra realtà, nella nostra vita per far luce su di noi, per portarci una luce. Innanzitutto il battesimo porta in noi la luce, il bagliore dell'azione salvifica dello Spirito Santo, porta alla luce dello Spirito Santo la sua azione salvifica sul buio del peccato che fa parte della nostra natura umana. Noi non siamo perfetti, dentro di noi ci sono anche le tenebre, il battesimo porta le luci su queste tenebre, porta la luce dello Spirito Santo su queste tenebre. Poi ecco il battesimo porta la luce, porta chiarezza su di noi per aiutarci a scoprire chi siamo davvero, ci permette di vedere davvero chi siamo, siamo figli di Dio, amati e non suoi schiavi. E lui ci vuole bene, ci ama anche se siamo ancora dei neonati che non sono in grado né di pensarlo né di pregarlo. E poi il battesimo ci porta questa luce che ci permette di fare il nostro ingresso nella chiesa, nella chiesa con la c maiuscola naturalmente. E poi questa luce che entra in noi col battesimo ci permette di diventare un tutt'uno con la luce di Cristo, con la luce della sua salvezza. Ci rivela questa luce che possediamo un'anima, che siamo abitati dalla presenza luminosa di un Dio che guida i nostri passi, che illumina il nostro cammino, che non ci lascia mai soli e tanto più quando siamo in balia delle ombre della nostra esistenza. Quelle ombre che ci accompagnano più o meno per tutto il corso della nostra esistenza è ultima proprio l'ombra anche della morte. La luce del battesimo ci dice che siamo abitati da una luce, ci rivela che siamo abitati da una luce che mai ci abbandona neanche nell'ora della nostra morte. Si squarciano i cieli nel momento in cui Gesù viene battezzato. Il cielo nella Bibbia è il luogo di Dio, anche se sappiamo molto bene che non è che Dio abiti in quella che è la sfera celeste, ma il fatto che si squarciano i cieli nel momento che Gesù riceve il battesimo significa che il mondo di Dio irrompe nella realtà. Tutto l'amore, la forza della Trinità si riversa sull'umanità, così come in una giornata nuvolosa quando a un certo punto qualche raggio di sole riesce a farsi largo e a portare un po' di luce, un po' di calore. Ecco il battesimo, quello che accade con il battesimo su di noi è un po' questo. Sulla scia di quanto evocato oggi aggiungo anche il contributo dell'arte, con un'opera davvero notevole. Vi invito a soffermarvi su uno dei volti di Gesù più intensi di tutta la storia dell'arte. Si tratta del Cristo come salvatore dipinto da El Greco tra il 1610 e il 1614. Ho potuto ammirare quest'opera suggestiva alla mostra dedicata proprio a El Greco, che si svolge fino all'11 febbraio del 2024 di quest'anno al Palazzo Reale di Milano, che vi consiglio vivamente di visitare se ne avete la possibilità, se abitate nelle vicinanze. La struttura di fondo del dipinto si rifà alle icone che El Greco, soprattutto in età giovanile, dipingeva, ma la ieratticità, diciamo la solennità bizantina, unita all'espressività delle luci che l'artista aveva scoperto a Venezia, soprattutto attraverso Tiziano, Tintoretto, Jacopo di Bassano. Tutto questo contribuisce a donare una speciale intensità al corpo di Cristo e al volto di Cristo, che è un corpo e un volto luminoso, che si fa largo nel buio. Ecco, con il battesimo noi permettiamo a Gesù di venirci incontro fin da bambini, fin da neonati, di squarciare le tenebre che sono parte di noi. Vi invito a fermarvi a fissare quest'opera di grande forza, posando poi lo sguardo su un dettaglio particolarmente significativo e interessante. L'aureola di Gesù non ha la classica forma tonda, bensì è uno squarcio di luce, un rombo di luce, a suggerire che Gesù è l'unica luce capace di sorgere e di accompagnarci sempre, ovunque, anche tra le tenebre più fitte, tra le ombre esistenziali con le quali dobbiamo sempre fare i conti nel percorso della nostra vita. Gesù viene incontro a tutti come luce, si offre a tutti come luce, non si tratta di inseguirlo ma semplicemente di accoglierlo, di spalancargli le porte. I sacramenti, in primis il battesimo, sono proprio la porta con la quale consentiamo a Cristo e allo Spirito Santo di raggiungerci in tutta la loro forza ed efficacia. Sappiamo allo stesso tempo che il Padre, che Dio Padre desidera salvare tutta l'umanità, tutti gli uomini e le donne, perciò può agire nelle persone e condurle alla salvezza anche per altre vie, non solo per il battesimo, per altre porte che solo lui conosce. Così come ha ricordato Papa Francesco in un passaggio di un'omelia tenuta proprio in occasione della festa del battesimo di Gesù, dicendo anche coloro che non sono battezzati ricevono la misericordia di Dio sempre. Dio si avvicina, Dio aspetta, ci accarezza con la sua misericordia. Le vie di Dio sono infinite, potremmo dire. Sappiamo però che il battesimo è il portone, non la porta, è il portone attraverso il quale permettiamo a Dio di affacciarsi su di noi fin dalla più tenera età, è un aprire un portone a quel Gesù portatore di luce e di salvezza che il greco ha saputo dipingere in modo stupifacente. Buona domenica a tutti!